Che è una mia amica, niente, abbiamo. Oddio, mi sono spenta. Sorry. Salve. Ma perché tu altri sempre nel momento in cui registri un video, tutte le volte in cui ho portato a registrare un video, arriva mia madre? No, bello, prossimamente arrivo a me, perché? Ciao, mamma. Oddio, è vero tua madre? Ciao, marvida. No, 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 cioè, è il molto giovane. I miei piedi sono vecchie. No, ma è vero, infatti, ho detto, sarà sua cugina. Non vero, grazie, è troppo gente. Ma potresti fare il letto, magari anche quello da zio. No, non lo potresti fare anche tu. Va bene, questa parte ovviamente si taglierà, però va bene. Che c'è lo che ogni volta che provo a registrare un video è fare mia madre da nulla. Complimenti di live. Anche che io in Australia arriva in casa. Salve a tutti ragazzi, io sono Filippo Pindolillo e benvenuti in questo nuovo video che è accompagnato da... Sveva, wow! Va bene. E niente, questo è un videotag se fossi... Se fossi un oggetto da collezione. Io sarei tipo uno di quelle scatole che contengono mille pastelli, mille colori, mille acquarelli che sono bellissimi da guardare. Tutte colorate. E magari tu non la vuoi rovinare e le vuoi tenere sempre tutte intatti quei colori. Io probabilmente sarei dei sacchetti. Sì, una cosa è strana, ma io faccio una collezione di sacchetti con sacchetti tipo di tutte le macchie buone. Quelli sono quelli che tengo esposti, ma se prendi là sopra l'armodio c'è un sacchetto Disney con tantissimi sacchetti, che io adoro. Boh, secondo me c'è una storia dietro i sacchetti e quindi... Se fossi una canzone... Se fossi una canzone sarei Just Like Fire di Pink. Io non lo so, ma sicuramente qualche canzone rap. Non è una che mi descrive particolarmente, perché sono un po' tutte, quindi... Un fiore. Se fossi un fiore sarei un iris, perché cresce in Giappone. In Giappone mi piace un sacco. Ed è raro trovarlo qui. Ed esotico. Wow, tutto di fiori. A me invece... Io invece sarei una Marti. Tipo quelle cose molto leggere, molto... Aspetalose. Libertà, non lo so. Mi sa molto di prendere la vita alla leggera, la margherita. La margherita. Come una pizza. Sì. È come un colore. Allora, se fossi un colore sarei il bianco, perché dal bianco inizia tutto. Puoi metterci qualsiasi altro colore. Puoi inundarlo, puoi modificarlo come vuoi. Io probabilmente sarei il rosa, perché io adoro il rosa. Cioè, è un colore così femminile che si trasmette tanta energia. E non lo so, io adoro il rosa. Tutte le mie cose sono rosa. Che cosa c'entra qualcosa? Che coloro è fucsia. Non so neanche distinguere le tonalità di rosa. Io adoro soprattutto i colori pastello. Quindi il rosa-pastello. Però un'altra volta sarei anche il nero. Se fossi un giorno. Se fossi un giorno della settimana, allora sarei sabato. Perché il sabato è sempre quel giorno che si aspetta magari per riuscire con gli amici. Quindi prima c'è tutta questa attesa della settimana noiosa. Quindi lunedì, martedì. E poi finalmente viene il sabato. Quindi qualcosa che aspetti. E poi finalmente viene. Anche per me il sabato. Per i stessi motivi. Se fossi un mese. Se fossi un mese sarei aprile-tratto-maggio. Perché aprile-tratto-maggio è tipo la stagione della primavera. E non mi piace. Perché non c'è né troppo caldo né troppo freddo. Ed è tranquilla come stagione. C'è leggermente ventilata. Io sicuramente sarei aprile. Perché oltre ad esserci il mio compleanno. Che penso sia il giorno più importante di tutto l'anno. Di tutto il mondo. Esatto. Io adoro il mio compleanno. Ci sono anche tipo tutti i concerti. Ed è arrivata la stagione priori. Quindi se vuoi ti puoi vestire a maniche corte. Oppure non vestirti. Oppure se vuoi mettere le falpe. E quindi adoro. Se fossi un elemento della natura. Acqua. Ma lo so. Non c'è una ragione. Però io sempre. Io sarei tipo il vento. Perché non lo so. Perché è leggero. Il vento è leggero. Lo so che il vento è leggero. Se fossi una città. Penso che sarei Roma. Io sarei. Tokyo. Perché è sempre affollatissimo. Ci sono un sacco di quartieri. Quindi Tokyo. Si può prendere da tante sfaccettature diverse. Cioè. Cioè per esempio la parte più tecnologica. Ma la parte più antica. Quindi. Se fossi un'opera d'arte. Sicuramente un quadro di Van Gogh. Perché adoro il stile di Van Gogh. I colori che usa. Non lo so. Io adoro tutto di Van Gogh. Io sarei il quadro della rivoluzione francese. Credo si chiami così. Ma non so il nome preciso. Perché mi piace un sacco. Se fossi un'attrice. Posso dire un'attore. Vai. Johnny Depp. Farei sicuramente Johnny Depp. Perché. È folle. Io adoro la foglia di Johnny Depp. Poi è troppo bello. Allora. Io pure adoro tante attrici. Ma sicuramente. Fra le tante. Sarei Meryl Streep. Perché Meryl Streep. È il top. Di tutte le attrici. Secondo me. Se fossi un make up. Quale saresti? Allora. Una base sicuramente leggera. Perché adoro le imperfezioni. Non so. Sicuramente. Magari con dei toni. Rosati. Sulle palpebre. Un eyeliner. Un eyeliner sottile. Del mascara. Sia sul cilio. Speriore. Che inferiori. Però. Non dico. Tutti i dettagli. Io. Un rossetto nude. Sicuramente. Io invece. Sarei un make up. Molto pesante. Che copre quasi tutto. Quindi. Che fa apparire la pelle. Tutta uguale. Come tono. E poi i colori accesissimi. Omogenea. Tipo. Sì. Omogenea. Omogenea. Tipo. Rosa. Verde. Giallo. Questi colori. Insomma. E tu. Se fossi. Una donna. Io lo sono. Ok. Se fossi un uomo. Come saresti? Bello. Con i lunghi. Sarei giunicato. E io. Se fossi. Una donna. Probabilmente farei. Così. Comunque. Questa. È stata. Soltanto una scusa. Così che. Io. Vi faccio. Vi indirizzarò. Al suo canale. Al canale di Sveva. Che trovate. Ovunque. Spamiavo. Lo so. Anche se lo to faccia. Esatto. Tipo ovunque. E niente. Quindi. Se volete. Vedere. Come è stato fatto. Il trucco. Vi lascio. Nell'info box. Il link del video. Nel canale di Sveva. E se fossi uno strumento. Se fossi uno strumento. Sarei il pianoforte. Perché il pianoforte. Il pianoforte. Il pianoforte. Esatto. No. Perché. Si può suonare. In un sacco di maniare. È molto versatile il pianoforte. Un violino. Una chitarra. Acustica. Qualcosa di leggero. Sempre. Per lo stesso concetto. È la margherita. Se fossi un personaggio. Di una serie tv. Sarei regina. Di Once Upon a Time. Che è un personaggio. All'inizio cattivo. Quando invece. È una persona molto dolce. Che serie tv è? Once Upon a Time. Wow. E niente. Alla fine si rivale. Che ha un cuore buono. Ed è gentile. È fidi skins. Perché mi piace. Il fatto che sia molto. Misteriosa. È molto dark. Però poi alla fine. Si scopre che è impazzisci. Non voglio fare spoiler. Ha dei problemi. Interni. Tali. A farle creare una confusione. Così. Andare da uno psicologo. Come fa lei? Non è vero. Però mi piace. Questo personaggio. Che è proprio. Il psicologo. Ok. Perfetto. Il video di oggi è finito. Spero vi sia piaciuto. E con questo video. Volevo anche. Levare un po' di filtri. Che c'è fra lo youtuber. E chi guarda il video. Facendovi scoprire. Un po' di queste parti. Di noi. Vi volevo anche ringraziare. Per i 900 iscritti. 900 iscritti. In tre mesi. Sono veramente tanti. Volevo ringraziarvi. E niente. Da Filippo. Doveva è tutto. Al prossimo video. «Uovicolo di inizieria». Niente. Un video. Ciao. 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 Grazie a tutti